Buon pomeriggio, io sono Enea Izzo e qui Safira. E' la nostra ospite, lei che ci ha ospitato, la signora Nonna Tina. Nonna Tina oggi per noi cucinerà. Cosa cucinerai, Nonna Tina? Una torta di pane raffermo, il pane che non si butta, la prima cosa che non si è mai buttato nella mia famiglia è il pane. Perciò oggi prepariamo una bella torta al cioccolato di pane raffermo. Cosa abbiamo qui? Abbiamo come ingredienti il pane bagnato nel latte perché giustamente è duro. Lo zucchero, noci, mandorle, nocciole, quelle che si ha in casa si può aggiungere, cacao, amaro e uova. E poi adesso con la modalità un goccino appena appena di vanillina. Iniziamo a fare la preparazione? Sì, sì, va bene. Ok. Pronti? Ecco, venite, così strizzate il pane e me lo mettete dentro. Qui aggiungiamo lo zucchero. Finoli. Questi quanti ne volete? Questo è cacao amaro però, perché c'è già lo zucchero. E questo due uova. Adesso diventa tutt'altro una cosa morbida, vedete? Sì. Ecco, questa è finita, adesso la dobbiamo soltanto infornare. 160 per 40 minuti e questa aspettiamo che... In forno. Vai, in forno. Ok. Infornata la torta abbiamo un'altra ricetta sempre con avanzi di cibo. Allora, questo è il riso che ho fatto ieri sera ed è avanzato il riso, un risotto normale o bianco, rosso, verde, qualsiasi risotto che possa avanzare. Noi li chiamiamo, cioè questi si chiamano adesso arancini perché in Sicilia li chiamano arancini perché è una loro specialità. Però ai miei tempi non erano gli arancini. Per farceli mangiare la mia mamma, la roba avanzata come si buttava, ci moriava dicendo che ci faceva le polpette. Solo che io ho imparato adesso a mettere formaggi, sottiletti eccetera che piacciono ai miei nipoti. Mentre invece ai tempi mettevano il formaggio fatto in casa, tipo di capra, di mucca, tutti quei formaggi di... La peretta... No, la peretta giù in campagna non si usava. Per cui non veniva usata. Per cui faceva queste polpettine tranquillamente e noi li dovevamo mangiare perché altrimenti non c'era altro. Non ci vuole sale nelle uova perché il risotto è già condito. Allora, come si fanno? Si prendono delle piccole polpette, si schiaccia bene perché altrimenti poi una volta che vanno fritte si aprono, si fa un bucetto, si prende un pezzettino di formaggio o quello che volete, il prosciutto o qualsiasi cosa e poi si cerca di chiuderli per non farlo uscire fuori perché quando si frigge viene fuori e schizza nell'olio e poi è anche pericoloso insomma. impanati nell'uovo e nel pangrattato. Così. Ecco. Adesso piano piano si mettono nell'olio bollente e iniziano a friggere. Applausi. Ed eccoli qua le polpette e la torta di pane. Come vedete non si butta niente in cucina. Contenti? Applausi. Applausi. Autore dei sorrisi Autore dei sorrisi